Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai profumi. Per la precisione profumi alla vaniglia. Piccola premessa, la vaniglia non è la mia nota preferita, tuttavia in alcune composizioni ben equilibrate, ben strutturate e soprattutto non troppo dolci, la apprezzo molto. La vaniglia però è una nota estremamente popolare, forse la più popolare attualmente, in questi anni credo che la vaniglia sia, i profumi alla vaniglia siano i più venduti, soprattutto quelli che hanno un richiamo al mondo gourmand, quindi alla vaniglia un po' alimentare, quindi quella per intenderci che noi mettiamo nei dolci, quindi tutte le vaniglie associate a caramello, associate a miele, associate a pralina, a zucchero a velo o al limone, quindi che sanno un po' di torte al limone sono, almeno per la mia esperienza, le più vendute e le più amate dalle persone. Questo non vuol dire nulla nel senso che ci sono persone poi che hanno altri gusti come me, però il mercato ci propone sempre di più fragranze di questo tipo proprio perché insomma sono le più amate quelle che attirano di più. Evidentemente c'è una, non evidentemente, sicuramente c'è una correlazione molto stretta tra i nostri sensi, in particolare tra l'olfatto e il gusto, di conseguenza ciò che attrae diciamo le nostre papille gustative e ci fa venire l'acquolina probabilmente ci regala anche dei piaceri a livello olfattivo. Almeno io me la spiego così, questo enorme successo della vaniglia gourmand. A me non fanno impazzire, come vi dicevo, i profumi troppo dolci in generale, quindi quelli che hanno una vaniglia alimentare un po' spinta, quelli che sanno di dolce, quelli che sanno di torta, quelli che sanno di, non so, torta di mele. Ecco, tutto il richiamo alla pasticceria non mi piace perché a me non piace sentirmi addosso, cioè sentirmi come un dolcetto da mangiare, cioè sentirmi addosso questi profumi che richiamano quelle suggestioni alimentari o anche quei ricordi legati magari ai dolci che ci cucinava la nostra nonna, non mi attraggono e non capisco perché dovremmo diciamo amare sentirci profumate di torta o di dolci. Questa è una mia opinione personale, attenzione. Ma comunque anch'io possego dei profumi alla vaniglia e oggi ve ne voglio parlare perché, ripeto, in alcuni casi quando la vaniglia non è troppo dolce ed è associata per esempio a delle spezie o a delle note più frizzanti che la rendono più fresca o ad esempio a note totalmente dissonanti come il sale, riesco ad apprezzarla anch'io. A me la vaniglia piace proprio come spezia perché di fatto la vaniglia è una spezia, è una delle spezie forse più pregiate, però ovviamente si presta moltissimo all'associazione con delle note zuccherine proprio perché è largamente utilizzata in pasticceria così come la fava tonka. Ma cominciamo con il mio acquisto più recente, è un acquisto che vi ho mostrato in un recentissimo video haul e si tratta di un profumo di Reminiscence. Reminiscence è un brand francese, credo di Parigi. Ci sono alcuni profumi storici e veramente che hanno fatto la storia della profumeria creati da Reminiscence che all'inizio nasce come un marchio di nicchia. Infatti all'inizio vendevano solo in questa bottega a Parigi, poi invece hanno cominciato ad esportare in tutto il mondo e adesso si trovano, poi si trovavano in qualche profumeria di nicchia, adesso si trovano anche nelle profumerie, nelle catene, insomma nelle profumerie commerciali, grazie al boom, allo strepitoso successo che ottenne negli anni 90 il loro famosissimo Rem che è il profumo con le note marine più famoso attualmente sul mercato, forse adesso un po' passato di moda. Quello che invece ho comprato recentemente è che in realtà conoscevo perché avevo già sniffato da Tigotà e che mi aveva colpito per la sua eleganza, per la sua sobrietà e per la sua semplicità perché poi all'infine è composto da due note protagoniste. Sto parlando di Vanille Santal, spero si pronunci così perché non sono brava in francese, non l'ho mai studiato. È un eau de toilette, quindi non parliamo di un eau de parfum molto pesante, molto persistente, molto invadente, però è un profumo che ha una sua persistenza degna ecco. Perché l'ho preso? Intanto l'ho visto su un notino molto scontato, l'ho preso circa 25 euro, questo è un profumo che costa oltre 50 euro, mi pare che da Tigotà costasse tra i 40 e i 60 euro e forse in profumeria lo troviamo ad un prezzo ancora maggiore. La boccetta intanto nella sua straordinaria semplicità la trovo elegantissima, vedete qua fa una specie di conca, cioè concava. Il profumo è buonissimo e soprattutto raffinato. Io lo trovo assolutamente unisex, per me addosso a un uomo sta benissimo e vi leggo un po' di questo profumo qualcosa, compresa le note olfattive. Vaniglie Sant'Al ti incanta per i toni caldi della vaniglia del Madagascar mischiati con il legno di sandalo dell'India. Questi due ingredienti, essendo perfettamente bilanciati, danno il meglio di se stessi e ti portano al centro dell'attenzione in ogni occasione, soprattutto nel periodo freddo. Viene classificata come una fragranza legnosa vanigliata calda e la composizione del profumo è la seguente. In testa abbiamo le spezie orientali addolcite dal caramello, nel cuore appaiono le note legnose intense di sandalo e cashmere, piene di calore soffice che si fonde sulla pelle e sul fondo la vaniglia del Madagascar, deliziosa e cremosa, si intreccia con i toni avvolgenti del muschio creando una sintonia irripetibile. Avevo una cimice che mi si arrampicava sulla caviglia, ragazze io le odio le cimici, ve lo giuro non le supporto proprio, cioè sono una piaga. Ma comunque torniamo a noi, l'ho stecchita, dopo la toglierò. Dicevo che questo profumo nella sua semplicità è assolutamente delizioso, intanto anche se in testa abbiamo delle spezie del caramello che non sono certamente le note preponderanti in questo profumo, io non lo trovo né stucchevole né eccessivamente dolce. Certo è un profumo dolce, raramente si incontrano profumi che non siano dolci alla vaniglia, è quasi impossibile, però ci sono profumi molto più dolci di altri, soprattutto profumi che richiamano molto di più il mondo della pasticceria. Ecco, questo non richiama il mondo della pasticceria, è una vaniglia molto raffinata, molto cremosa ma delicata, cremosa ma non stucchevole e soprattutto è perfettamente bilanciata con la nota del sandalo. Queste due note sono assolutamente preponderanti, io non sento altro, se non che forse nel fondo un po' il muschio stempera la dolcezza della vaniglia e gli dà un po' di freschezza. È veramente piacevolissimo da indossare, lo indosso quando ho voglia di qualcosa di confortante, di dolce, credo che nella sua sobrietà e semplicità sia un profumo anche leggermente sensuale, non è un sensuale spinto. È un sensuale, come posso dire, raffinato, sofisticato, io lo sento bene come vi dicevo anche addosso a un uomo perché, ripeto, non è troppo dolce, non è troppo stucchevole, quindi non ha una connotazione strettamente femminile. Insomma, io lo considero molto raffinato, l'ho indossato stamattina, mi è durato una mezza giornata e oltre, nel primo pomeriggio me lo sentivo ancora addosso, poi piano piano si va a disperdere e ne avevo messo poco, non c'era andata con mano pesante, quindi secondo me ha la persistenza quasi di un eau de parfum. Anche se più consigliato per il periodo freddo, secondo me è un profumo assolutamente quattro stagioni, proprio perché non essendo un eau de una potenza esagerata, secondo me anche d'estate due spruzzi, magari di sera, non di giorno, ci stanno, ci possono stare, insomma. Altro profumo, ho comprato recentissimamente, uno dei più recenti, è questo di Erbolario, che è famosissimo, ossia vaniglia e zenzero. Profumo ormai storico, credo se non so esattamente quando è stato lanciato, però oramai ha un bel po' di anni e questo profumo io lo trovo delizioso. Delizioso perché non trovo che la vaniglia sia la nota protagonista in questo profumo, ma io credo che la nota che si staglia sopra tutte le altre, che regna indiscussa, è senz'altro lo zenzero. Nota che io amo, a me fa impazzire lo zenzero in tutte le sue forme, in tutte le sue declinazioni. Lo amo da mangiare, lo amo nelle tisane, lo amo nelle granite, cioè quest'estate ho mangiato in Sicilia, a Lipari delle granite, limone e zenzero, che era una cosa da dare giù di testa. Lo amo per fare delle acque aromatizzate, fresche da bere in estate, con sapete lime e zenzero in infusione. Lo amo nelle varie ricette e lo amo nella profumeria, lo amo anche nella pasticceria, ma comunque è una nota che mi fa impazzire perché è fresco, io amo tantissimo i sapori e gli odori freschi, quindi si abbina benissimo con gli agrumi per esempio. Allo stesso tempo è un po' piccante, quindi questa sua connotazione un po' piccantina me lo rende fantasticamente, come posso dire, galvanizzante, energizzante, mi rincuora, mi dà energia, mi dà allegria, insomma è una nota molto frizzante e per me molto solare. Non so dirvi perché, ma per me pur essendo una spezia, è una spezia assolutamente solare e gioiosa. E lo zenzero è veramente il protagonista di questo profumo, ma è un profumo eccezionale, nonostante la sua semplicità anche qui, perché sono due note, vaniglia e zenzero. Lo zenzero è predominante, poi si sente nel fondo questa vaniglia che cerca un po' di ammorbidire questa esplosione piccante dello zenzero e gioiosa e quindi gli dà quel non so che di rotondità, di morbidezza, che lo rende un profumo, anche questo secondo me, adatto per tutte le stagioni, adatto a tutta l'età e lo trovo un profumo perfettamente bilanciato. Ma vi leggo le note olfattive esatte. Allora, la categoria è orientale speziata, quindi viene descritto così, accenti piccanti ed aggrumati di zenzero che con nota sottile ma decisa risvegliano l'aroma soave della vaniglia, resa qui meno dolce, più frizzante e sfuggente. Esattamente, questa è la descrizione dell'erbolario e lo rappresenta, questa descrizione lo rappresenta al 100%, cioè accenti piccanti ed aggrumati di zenzero, quindi prima si cita lo zenzero che è il protagonista assoluto, che con una nota sottile ma decisa risvegliano l'aroma soave della vaniglia, quindi la vaniglia arriva dopo, come se volesse sostenere, ammorbidire ed abbracciare la piccantezza dello zenzero. La vaniglia è resa qui meno dolce, come vi dicevo, più frizzante e sfuggente, quindi è una vaniglia più giovane, più spensierata, più frizzante appunto. Note di testa zenzero e limone, note di cuore vetivere e paciuli, note di base vaniglia e benzoino del Siam. Comunque, quando veramente ho uno stato d'animo positivo e quando ho voglia di qualcosa che mi dia energia, che mi dia gioia, questo profumo lo uso molto volentieri, anche se ce l'ho da poco, è stata una grandissima scoperta e sono molto contenta di averlo scoperto. Io snobbavo un po' i profumi alla vaniglia proprio perché non era la mia nota preferita e io la vaniglia davvero l'associavo a quei profumi proprio dolci, stucchevoli eccetera, per cui era un po' prevenuta, ma quando l'ho sentito io me ne sono innamorata follemente. Inoltre ha un'ottima persistenza, quindi trovo che sia uno dei profumi meglio riusciti e anche nella sua semplicità più particolari e anche di maggior qualità dell'erbolario. E adesso vi presento un altro profumo alla vaniglia non convenzionale, tra virgolette, nel senso che non è una vaniglia dolce, non è una vaniglia gourmand, non è una vaniglia zuccherina o pasticcina, ma è una vaniglia salata. Io non amo questo brand, però quando ho sentito questo profumo io ho sentito qualcosa di originale, di ben equilibrato, di ben fatto. Sto parlando di Paco Rabanne e il profumo in questione è Olimpea, o Olimpea, non so come si dica, che è un profumo creato, diciamo, dietro al quale c'è un naso importante e cioè Dominique Ropion, che insieme ad altri due maestri ha creato questo profumo molto particolare. Intanto la descrizione è molto evocativa che c'è sul sito di Paco Rabanne. Olimpea è rappresentato da una dea, una moderna Cleopatra, la regina tra le regine che domina uomini e divinità. La fragranza di questa eau de parfum è decisamente sensuale, inedita e con un pizzico di irriverenza alla quale nessuno può resistere. La composizione di Olimpea si apre con note di mandarino verde, insieme ad un accordo di vaniglia salata, particolarmente magnetico. Il cuore floreale si compone di gelsomino acquatico e fiori di zenzero, e anche qui torna lo zenzero, mentre la scia di legno di cashmere e ambra grigia è persistente e sensuale. Il flacone è come un gioiello, un talismano, infatti è bellissimo il flacone. Io ho la taglia da 30 ml, ma anche il flacone, devo dire che è molto elegante da tenere lì in esposizione, inoltre a me piacciono molto i profumi dal colore così ambrato. Allora, che dire di questo profumo? Inizialmente quando lo spruzzate ha un'apertura molto particolare, perché si sente questo mandarino verde che smorza un po' la vaniglia salata, no? Quindi c'è il mandarino verde fresco, la vaniglia dolce e il sale appunto che è una nota salata, quindi inizia con un contrasto di tre connotazioni olfattive diverse. Nel fondo, scusate, nel cuore poi vengono fuori i fiori che compongono il cuore di questa fragranza, e cioè il gelsomino. Il gelsomino comunque si sente e nel cuore assolutamente dice la sua, ecco. Però rimane sempre, diciamo, predominante questa nota di vaniglia salata. Infine il fondo, che è quello che poi persiste più a lungo sulla pelle, è molto caldo, perché è composto di legno di cashmere e ambra grigia. Allora sappiamo che l'ambra e legno di cashmere sono due note molto calde, quindi all'inizio è un po' più particolare. L'evoluzione di questo profumo e soprattutto il fondo sono un po' più convenzionali, nel senso che poi rimane tantissimo il fondo addosso e si tende un po' a perdere la freschezza. Dio, non lo definirei un profumo fresco, è assolutamente questa invernale, però quella nota di mandarino verde e quel pizzico di fior di zenzero che hanno dato un po' una sfarzata all'apertura si vanno a perdere, rimane questo fondo importante e molto sensuale. Sicuramente è un profumo sensuale, è un profumo da sciarpa, almeno ovviamente io mi riferisco sempre ai miei gusti. È un profumone importante che lascia la scia, che ha una ottima persistenza e che non può non percepire chi vi sta intorno, quindi dovete essere consapevoli che va usato diciamo con moderazione. Ogni tanto però nelle giornate particolarmente fredde o dove mi voglio sentire, nelle giornate in cui mi voglio sentire più signora, sapete quando indossate quel cappotto a vestaglia, quello sciarpone così, regala un allure affascinante e decisamente sensuale. Ma ripeto, quello che me lo fa, ok non dico amare perché non è un profumo che ama la follia, però quello che me lo fa apprezzare e che me l'ha fatto acquistare è questa diciamo, questo accostamento tra la vaniglia e il sale che rende la vaniglia non convenzionale e più particolare, ok? E non troppo dolce. Allora un altro profumo alla vaniglia che quando è uscito, cioè lo scorso inverno, è un profumo recente infatti, andai a sentire in profumeria e ne rimasi molto colpita, ne rimasi molto colpita. Non l'ho acquistato subito ma dopo pochi giorni perché avevo in tasca ancora il fogliettino dove si spruzzano i profumi e continuavo ad odorarle, dicevo però che buono, non so, c'avevo una nota, una vaniglia che mi portava lontano, mi faceva pensare alle spiagge, alle situazioni esotiche, ma senza essere un profumo estivo. Non saprei, cioè questo profumo ha la particolarità di avere delle note che noi associamo ai profumi estivi, ma di farti pensare allo stesso tempo a, lo so, le piste da sci di Madonna di Campiglio, cioè, non lo so, a me evoca due mondi completamente opposti e vi spiego perché. Il profumo in questione è Alien Goddess di Thierry Muglet. Mamma che buono. Alien Goddess viene definito dal suo creatore come un abbraccio solare incandescente e generoso. Le prime note rivelano un'esplosione della frizzante essenza di bergamotto italiano. Abbinata a un'overdosa inaspettata di accordo d'acqua di cocco, il profumo rilascia immediatamente una bagliante esplosione di luce. Il duo acqua di cocco-bergamotto sboccia in una combinazione di note fruttate, verdi e acquatiche per un rilassante senso di calma e serenità. Il cuore di Alien Goddess rileva una fusione profondamente sensuale di gelsomino, grandiflorum ed accordo di eliotropio. Ideato per Muglet, il gelsomino, grandiflorum, è più forte, moderno e abbagliante che mai. Le foglie di eliotropo si allungano languidamente nel sole per assorbirne meglio i raggi, diffondendo accenti morbidi e cremosi. Le persistenti note di Alien Goddess lasciano una scia senza fine di inebriante vaniglia Bourbon del Madagascar, qui entra in gioco la vaniglia, esaltata dalla vibrante intensità del legno di Kashmiran. Ricavati in modo sostenibile, i baccelli di vaniglia sono diluiti in una preziosa infusione, squisita accentuazione della vaniglia originale, per un profumo intenso e duraturo. Note di testa, acqua di cocco e bergamotto. Note di cuore, gelsomino ed eliotropio, note di base, vaniglia Bourbon e Kashmiran. Allora, questo profumo in apertura è fresco, è fresco e solare, è luminoso. La descrizione diceva bene, è un profumo solare, luminoso, che trasmette calore ma che trasmette anche un senso di pace e benessere. È luminoso perché io lo associo tantissimo al colore bianco, o meglio, panna. Per me questo profumo ha un colore panna o comunque dorato. La boccettina lo rappresenta alla perfezione. L'apertura del bergamotto e dell'acqua di cocco appunto gli dà questa apertura un po' fresca e frizzante e un po' dolce di cocco e ti fa pensare subito al mare, alla spiaggia eccetera, alle situazioni tropicali. Poi arrivano subito la sensualità e le note talcate del gelsomino ed eliotropio. Quindi la sensualità del gelsomino, che qui è un gelsomino particolare, ancora più avvolgente, ha ancora più personalità del classico gelsomino estivo, e l'eliotropio che gli dà quella nota leggermente talcata. Infine abbiamo un fondo caldissimo, è dolce, la vaniglia bourbon e il cashmeran. È un profumo che mi sa di sciarpa e in maglione di lana intrecciato, sapete di quei maglioncioni che si usano appunto a cortina, che si mettono in valigia per la settimana bianca, ecco. Pur avendo delle note che richiamano all'estate e ai paradisi tropicali, per me è un profumo assolutamente invernale, anche perché è molto potente, ha un'ottima proiezione, un'ottima durata e un'ottima persistenza. Questo ve lo sentite addosso anche l'indomani e sui vestiti dura giorni. Quindi io non lo indosserei mai in estate, perché per me è troppo indossato in estate onestamente. È un profumo caldo e allo stesso tempo solare. Non è un caldo oscuro, un caldo affascinante, un caldo sensuale, un caldo ombroso. È un caldo proprio luminoso. A me, quando l'ho sentito per la prima volta, mi ha proprio dato una sensazione di piacere intimo, di calore, di serenità. Se lo dovessi associare ad un luogo, io lo associerei al Nirvana, il profumo del Nirvana. E terminiamo con il mio profumo preferito alla vaniglia, di sempre e da sempre. E, udite udite, si tratta di un profumo low cost. Questo a riprova del fatto che a me non me ne frega niente del costo, del profumo, del brand. Un profumo o mi piace o non mi piace, o mi conquista o non mi conquista, a prescindere dal costo e da chi l'ha creato, da chi lo rivende, eccetera, eccetera. Né tantomeno dal luogo dove l'ho comprato, che sia erboristeria, che sia profumeria. Sto parlando di questo profumino qua, che per me è un assoluto capolavoro, ed è Queer de Nuit. Queer de Nuit, spero di pronunciarlo bene, del brand Yves Rocher. Questo profumo per me, non lo so, è una coccola infinita. Lo metto quando ho bisogno di essere confortata e di coccolarmi. Ma oltre a questo, è un profumo esotico, molto particolare, che io non ho mai sentito. Non mi ricorda nessun altro profumo che io abbia mai sniffato. E anche questo ha delle note molto semplici, ma il connubio tra le tre note principali di questo profumo crea, a mio avviso, un capolavoro assoluto, che non stufa mai. Ora, io l'ho indossato d'estate, in primavera, in autunno, in inverno. Tuttavia, l'ho indosso con più piacere in autunno-inverno, perché comunque ha un profumo caldo, è un profumo speziato caldo, che tra l'altro ha un sillage e una persistenza impressionante. Almeno è impressionante la durata di questo profumo. E la forza con cui me lo sento addosso tutto il giorno, cioè sempre lì, è presente, e tra... cioè non mi posso mai dimenticare di aver indossato questo profumo quando lo indosso, perché c'è sempre un effluvio che deriva dalla mia pelle e che mi ricorda la sua presenza. Quindi è un profumo davvero, davvero, da scia, davvero, davvero particolarissimo e magnetico, e vi voglio leggere le sue note olfattive. Allora, le note olfattive sono vaniglia Taitensis della Pauppasia Nuova Guinea, cacao della costa d'avorio, caffè Santos, bacche di rosa delle isole Mauritius. Questo è un gourmand, però non è un gourmand dolce, ok? È un gourmand particolare, inatteso, inaspettato. Dalle note dolci e suadenti, ricche di personalità, che circondano l'olfatto da mattina a sera come una coccola. Ottima la persistenza incredibile il sillage, e ora che l'ho scoperto non lo lascio più, perché è esattamente come nella descrizione. È un profumo che ha tre note molto semplici, e cioè, a prescindere dalle vaniglia del Taitenè, Costa d'Avori, Nuova Guinea, non ce ne frega niente, di da dove vengono queste note, ma a prescindere da quello, fondamentalmente abbiamo vaniglia, cacao e caffè. Proprio una piramide olfattiva semplicissima. Queste tre note si sentono tutte, soprattutto la vaniglia e il cacao. Caffè faccio un po' più fatica, però se mi impegno lo posso sentire. è un cacao, cacao è non cioccolato, non è un cioccolato dolce, è cacao, c'è la spezia, il fagiolo del cacao, la polvere di cacao. Questa vaniglia che è dolce, ma è dolce in maniera naturale, quindi non è stato aggiunto zucchero, caramello, miele o quant'altro. Quindi è un profumo speziato, secondo me, perché restituisce assolutamente la dimensione di queste tre spezie in quanto spezie, non in quanto poi lavorate per diventare altro. Si sente la spezia del caffè, la spezia della vaniglia e la spezia del cacao. Non ve lo so descrivere oltre, dovete andare a sentirlo se non lo conoscete, perché credo che questo profumo o lo si ami o lo si odi, cioè o lo si capisca o non lo si capisca, perché non è un profumo piaccione, secondo me. È molto particolare. Io, nonostante appunto fossi prevenuta perché i profumi alla vaniglia di solito non mi piacciono, è difficile, insomma, che mi piaccia un profumo alla vaniglia. Quando l'ho comprato sono impazzita, tant'è che ne ho preso un'altra confezione da 100 ml di scorta, questo è da 30 ml. Tra l'altro, ecco, avete la possibilità anche di acquistare queste piccole confezioni da 30 ml senza una spesa eccessiva e potendolo provare con tutta tranquillità. Comunque, grande, grande, grande profumo. Io ho terminato con la mia carrellata dei miei profumi preferiti alla vaniglia. Fatemi sapere quali sono i vostri profumi preferiti alla vaniglia e datemi qualche consiglio su qualche profumo alla vaniglia da sniffare nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Un bacione e al prossimo video. Ciao!